No, mi pare che il Ministro del Rio debba essere consultato per chiedere esattamente a che punto è e quali sono le disponibilità attorno al progetto. E così ho fatto questo oggi, ho chiamato il Ministro, il quale mi ha detto che nel contratto di programma per i prossimi anni c'è una volontà di proseguire i lavori, che tra l'altro sono già in atto su una parte della tratta e c'è un ulteriore finanziamento per 200 milioni che consentirà di proseguire nei prossimi anni progettazione e realizzazione. Quindi l'opera va avanti, a prescindere dall'indice di priorità che gli viene assegnato in astratto, in concreto quest'opera sta andando avanti. E credo che questa sia la risposta che non solo come Ministro Ligure ma come anche parlamentare di questo territorio mi sento di dare con soddisfazione.